Salve amici, mi trovo all'interno del ristorante Barahonda dell'hotel Alisei e sono in compagnia di Alice, la responsabile. Alice, mentre aspettiamo i nostri connazionali che a breve verranno qui per brindare e scambiarci gli auguri, volevo chiederti alcune cose del ristorante. Che cucina offrite ai vostri clienti? Abbiamo un menù molto vario, abbiamo cucina sia dominicana che qualcosa thailandese, è molto varia, è una cucina fusion giusto per soddisfare differenti palati che vengono a trovarci. Tra l'altro il ristorante è veramente situato in una posizione fantastica, in un giardino tropicale bellissimo e ci troviamo direttamente sulla spiaggia, una delle spiagge più belle della Sterrenas, Playa Las Baienas, quindi ottimo anche per le cerimonie. Sì, abbiamo organizzato diverse cerimonie, soprattutto compleanni e matrimoni, matrimoni in spiaggia e alcuni compleanni anche in piscina. In bassa stagione apriamo la piscina anche a esterni e facciamo differenti feste anche per bambini. Esterni quindi significa che il ristorante non è riservato solamente ai clienti dell'hotel ma anche ai vacanzieri residenti che si trovano qui alla Sterrenas. Sì, sono tutti benvenuti, sia agli esterni come ho detto prima, siamo aperti sette giorni su sette, sorviamo sia colazione, pranzo e cena dalle sette e mezza del mattino fino alle undici di sera. Piatti forti del ristorante? Piatti forti, abbiamo linguine fritte del mare, ciurrasco, vendiamo molto, anche l'entrecote, abbiamo un piatto dominicano, la bandera dominicana e un pesce molto conosciuto qua che si chiama il ciglio, sia fritto che ha la piastra in diversi modi. Amici, non ci resta che provarlo. Intanto noi che facciamo? Andiamo a ricevere i nostri amici, i nostri ospiti e andiamo. Robi, io faccio lo scostumato. Natale ai Caraibi che sembra il titolo di un film di Vanzina e invece è il tuo primo Natale ai Caraibi. Esatto, è il mio primo Natale ai Caraibi e sono contentissima di essere qui con voi. Insomma, sono felice e emozionata. Come hai senso il freddo? Come hai senso il freddo? È strano perché non sembra Natale, devo dire la verità, non sembra Natale, però l'affetto che mi date voi, insomma, anche se sono lontana da casa, lontana dai parenti, io mi sento comunque felice e in famiglia, davvero. Delia, te il primo Natale che passi qua? Secondo. Secondo, quindi come te lo senti questo Natale? In spiaggia. Con i tortellini in spiaggia. Con i tortellini in spiaggia, no. Angela, invece, so benissimo che è già il terzo anno che passi il Natale qui. Sì, ogni anno un Natale diverso, però sempre qui alla Sterrena, pieno di sorprese e soprattutto con tanti belli italiani. Ma la domanda che ci fanno spesso è, ma non vi manca di fare il Natale al freddo, con il camino, al calduccio del camino? Al freddo proprio no, semmai è la famiglia che può venire qua, ma scegliere di andare lì no e poi oltretutto guido il mio lavoro della pasticceria italiana, non me lo permette di potermi muovere, soprattutto poi in questo periodo. È meglio così allora. Prima di tutto vorrei ringraziare il ristorante Barahonda e Alice che hanno messo a disposizione la struttura e sono stati gentilissimi. E poi vorrei fare a nome di tutti gli auguri a tutte le nostre famiglie, a tutti i nostri parenti vicini e lontani, a tutti gli italiani in Italia e a tutti gli italiani nel mondo. Uno, due, tre, auguri!